L'Otta al caporalato, tavolo tecnico in prefettura d'agrigento, presente anche Conf Cooperative. Il servizio di Gaetano Ravanà. Si è svolto ieri in prefettura d'agrigento, nell'ambito del Consiglio territoriale per l'immigrazione, il tavolo di contrasto al caporalato. L'incontro è stato presieduto dal vice-prefetto Gabriele Barbaro, capo ufficio di staff dell'area Quarta a tutela dei diritti civili, cittadinanza e immigrazione, e ha visto la presenza delle massime autorità militari e civili della provincia agrigentina. Per Conf Cooperative Sicilia-Agrigento era presente il presidente Antonio Matina. Il tema, rivolto allo sfruttamento dei lavoratori irregolari, prevalentemente nel settore agricolo, rappresenta un fenomeno complesso che riguarda sia italiani che stranieri, diffuso capilarmente in tutto il paese. Con i flussi immigratori, inoltre, sempre più cittadini stranieri sono costretti, loro malgrado, a fungere da mano d'opera a bassissimo costo. Il presidente Matina, nel suo intervento evidenziato nell'ambito delle doverose attività di controllo e repressione del fenomeno, risulta indispensabile potenziare anche tutte quelle operosità sotto l'aspetto della prevenzione del fenomeno. Matina ha aggiunto, qualsiasi corpo umano, anche quello del miglior atleta, se sottoposto ad una costante penuria si indebolisce e un corpo debole è molto più soggetto ad ammalarsi. Ecco l'impegno richiesto, lavorare in sinergia, conclude Matina, per cercare di mitigare gli effetti deleteri di una serie di cause che rendono il comparto sofferente e potenzialmente vulnerabile. Degli interventi oggi si stanno... Grazie. 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 Grazie.